Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero, una buona serata dal centro parrocchiale in Toganella, dove è appena iniziata la finalissima del secondo Memorial Giulia Martinelli, organizzata Giancarlo Simonelli, suo staff, grande impegno. Prova la verticalizzazione, poi grande gesto tecnico da parte di Davide Milani, ora Pantoso vuole andare da solo, poi improvviso il suo tiro, palla sul palo, la respinta e arriva il vantaggio di Volemose bene con Davide Milani, 1-0, pallone intercettato però, la corona, Ferraro, Ferraro dentro e arriva il pari, firmato Felici, 1-1, dentro il pallone Felici che praticamente si mangia il raddoppio, Ferraro, Ferraro va dentro, Ferraro il sinistro, palla di un soffio vicino al bersaglio, tutto pronto, arriva il fischio dell'arbitro, Morelli, lo schema vincente e la rete da parte di Giorgi, 2-1, dopo il vantaggio di Milani sono arrivate le reti di Felici e di Giorgi e ora anche di Sirolli, 3-1, Micidiale, 1-2, Pantoso, per Carbonari, diagonale, potente, fuori misura, Morelli, per Felici, Felici mette dentro e arriva la rete con doppietta personale per Sirolli, pallone dentro per Morelli che non si fa sorpassare, Corona, Outmancino, Corona, Corona mette dentro e poi arriva il gol da parte di Giorgi, anche lui doppietta, 5-1, lascia Righetti, carica il destro, buono il tiro di Righetti, Sciacqua mette fuori ma in solo pochi secondi separano Brise, sigarette elettroniche dalla vittoria di questo secondo Memorial Giulia Martinelli, Corona, il palo di Corona sulla rispinta, la parata di Fabri, poi arriva il gol, la doppietta personale Davide Milani, termina così questa finale tra Brise, sigarette elettroniche, volemoci bene da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero, un cordiale saluto a tutti voi, appuntamento alle prossime serate. Prima classificata a Brise, sigarette elettroniche. Saluto! Saluto! Alta la risco alNOch! Grazie Clos Clos Grazie a tutti.